Il contratto comprende 27 azioni che saranno coordinate dal Comune di Montignoso, dal Comune di Pietrasanta, dal Consorzio di Bonifica e al quale hanno aderito in qualità di soggetti collaboratori una serie di associazioni e anche numerosi cittadini singoli che vorranno appunto collaborare alla realizzazione di queste azioni. Una cosa importante è che a queste 27 azioni si potrà continuare a collaborare, quindi i cittadini o le associazioni o gli enti che vorranno aderire alla realizzazione di queste azioni si possono rivolgere all'ufficio ambiente del Comune di Montignoso e sottoscrivere anche successivamente il contratto di lago che comunque rimane aperto così come l'Assemblea di Bacino che rimarrà aperta a tutti i cittadini e sarà poi riconvocata sia per essere aggiornata che per realizzare il secondo programma d'azione al termine di questi tre anni e quindi quando avremo realizzato queste prime 27 azioni.